Ciao, sono Carlos, educatore professionale della comunità terapeutica di Faro Livana, appartenente alla grande cooperativa di Bessimo. In questa comunità i ragazzi vivono qua, in compagnia comunque insieme agli educatori, fanno svariate attività, tra cui gruppi terapeutici, laboratori, colloqui, attività all'esterno. La nostra comunità, insieme a quella di Pudiano, è una delle prime che ha aderito a questo progetto. I ragazzi a cui è stata proposta, proposto questo progetto, si sono divertiti tanto in questo lavoro. Hanno accolto la proposta con entusiasmo e non vedono l'ora di vedere il loro lavoro, insieme al lavoro di tutte le varie comunità, terminato e una volta finito, vedere poi quale sarà il risultato finale. Grazie a tutti.